Sì, sì, l'ho capito perfettamente, la sensazione però è sempre uguale. Voglio rimanere con i piedi per terra perché sono un ragazzo di 20 anni e quindi ho tutta una carriera davanti. Quindi devo pensare che ho tanto da fare ancora e quindi non mi devo squilibrare, devo stare sempre sul pezzo. Dopo non mi aspettavo la quantità di messaggi che c'era, me l'aspettavo perché ho vinto un'Olimpiade. Però non mi aspettavo magari di ricevere messaggi da personaggi famosi perché non sono abituato a questo. Mi ha fatto veramente piacere, magari questa è una spinta per il taekwondo italiano. Spero che la mia medaglia d'oro lo faccia conoscere alla gente. Ad esempio, sì, mi ha scritto Gallinari, il giocatore di basket, mi ha fatto molto piacere. Poi mi ha scritto Kaby Lane, non so come si pronuncia, l'italiano più seguito su Instagram. Poi Bundabash che sono il mio gruppo preferito e tanti altri. Sì, voglio tornare ad allenarmi quanto prima possibile, però qualche giorno devo un po' riposare. Cioè, non riposare, almeno andare a casa a vedere i miei genitori e godermi la famiglia. Perché in questo periodo purtroppo l'ho potuto fare poco. Poi l'ultimo periodo è stato un periodo duro perché è venuto anche a mio nonno. Quindi ora vogliamo festeggiare insieme a lui da lassù questa medaglia perché lui ci teneva tantissimo. Sì, sì, questa medaglia è pure per il momento storico che stiamo vivendo. Purtroppo è stato un anno veramente duro per tutti. Il lockdown ha sconvolto tutti i nostri piani, ci ha fatto perdere le nostre abitudini. Quindi questa medaglia è per tutto il popolo. Spero che questo sia uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Penso che il 2021 rispetto all'anno scorso sia un anno veramente migliore. E quindi spero che prima o poi ritorneremo a gioire tutti insieme. Allora, ho vinto contro il mio avversario quando in mente mi è scattato un unico pensiero. Ossia devo vincere perché c'è il mio nonno che mi sta guardando da lassù. E poi era un'occasione, dovevo pensare come se fosse l'ultima occasione. Quando ti ricapita di giocarti in una finale olimpica. Poi l'ho sognato perché buttare questa occasione. Quindi ho cercato di dare tutto me stesso. A volte all'ultimo non ho pensato. Ho pensato alla tattica però ho detto che mi sono pure buttato. Perché volevo vincere. Non volevo avere rimpianti. Ci vediamo a Parigi, ovvio, certo. Ora è uguale.